foodglory.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati nel vostro gioco, siamo tornati signori di nuovo con FIFA 17 siamo qua sempre per crearci uno squad builder, oggi sono qua appunto per fare questa sfida che appunto, come avete visto mi sono un attimo avvantaggiato sto facendo una nazionalità miste dove appunto si riceve 5000 crediti più un pacchetto giocatori oro premium ragazzuori in più hanno messo anche altri buoni giocatori, hanno messo Jensen poi hanno messo appunto Rodriguez del Movember, hanno messo le divise del Movember mi vado a fare questo qui che io sto praticamente facendo, allora vi faccio vedere subito che è questo qua delle nazionalità miste, questi 3 già lo farsi, quindi 8 americano, forza 4, misti 10 nazionalità ok, stiamo facendo scambio dei nostri giocatori con 6 nazionalità di cui almeno 6 rari stavo cercando di andare avanti ragazzuoli come state vedendo, stavo cercando di crearmela quindi cosa mi manca? Allora, giocatori rari esattamente 6, dobbiamo fare un'intesa squadra minimo 80 e dobbiamo fare nazionalità esattamente 6 nazionalità noi abbiamo messo la spagnola, inglese, brasiliana, argentina, francese, quindi sono 5 ragazzi sono 5 nazionalità, dovrei metterne un'altra in cui c'è anche un altro giocatore raro perché sennò è un problema e dobbiamo fare un'intesa di 80, quindi è veramente un casino rega farlo perché ci manca la S e non so che andare a mettere, perché francese, inglese, brasiliana, argentina e spagnola l'abbiamo messa e sono 5, ci manca l'ultima che potremmo mettere come nazionalità quindi 1, 2, 3, 4, l'abbiamo messa, potremmo mettere Germania, Olanda, Italia o Portogallo vediamo un attimino con Germania ad esempio ragazzi, se io lì ho messo Schurle comunque come AS, vedete che mi dà tutto quanto buono tranne giocatori rari, esattamente 6, quindi, ah ok, ok, ho capito adesso, minchia, difficilissima sta sfida ragazzi questa è difficilissima perché io ne ho messi 27 rari tanto un po' ah vedi, ragazzi, così ci siamo, probabilmente, ho modificato un po', ho tolto alcuni giocatori oro rari ho messo appunto oro non rari perché appunto ci servono solamente 6 giocatori di valutazione, scusate, di realità massimo oro rari dobbiamo fare un'intesa squadra che ci è rimasto solamente di 80, noi abbiamo 78, quindi dobbiamo cercare un attimino di gestirci al meglio ok, così andiamo a 79 minchia, che sfiga, andiamo a 79 però se io qua forse metto da esterno sinistro vado ad applicare un consumabile, ragazzi e vado ad applicare da esterno sinistro a attaccante sinistro, dovremmo andare a 80, esatto, eccola qua ragazzi e massa gli abbiamo fatta con una botta con una botta, perché la totta mi hanno fermato quindi questo però, aspetta, lo inviamo al club perché è mio e me serve quindi ce l'abbiamo fatta e ci andiamo a prendere appunto la sfida che abbiamo completato, quindi grazie mille qui abbiamo speso veramente pochissimi soldi, ragazzi anche perché pacchetto giocatori oro cioè pacchetto oro giocatori premium eccolo qua ragazzuoli grazie a una nazionalità miss è fatto grazie mille, quindi 5.000 crediti per noi e un buon pacchetto che tra pochissimo ci andiamo ad aprire vediamo un attimino un'altra bella sfida che possiamo fare queste divise sono molto belle però qui non ci danno giocatori o cose varie questa qua ragazzi ci danno un Rodriguez speciale allora veniamo un attimino, partiamo da 0 vediamo un attimino cosa vogliono in questa sfida giocatori svizzera esattamente 4 giocatori bundesliga esattamente 6 valutazione squadra complessiva minimo 77 intesa squadra minimo 95 ragazzi qua ce la possiamo fare allora dobbiamo prendere 4 giocatori della svizzera e 6 della bundesliga quindi ce la possiamo fare veniamo un attimino allora i 4 giocatori della svizzera ragazzi ci sono andati a prendere comunque sono quelli che io praticamente non utilizzo quindi chi se ne frega qui prendiamo adesso 6 giocatori della bundesliga quindi mettiamo nazionalità vabbè 6 della bundesliga possiamo mettere qualsiasi campionato bundesliga mettiamo qui ok perfetto e vediamo appunto quelli che abbiamo noi sul nostro club quindi come cdc io direi di andare a mettere giocatori che noi non utilizziamo che costano poco quindi potremmo mettere queste ragazzi perché dobbiamo tenere anche comunque l'intesa raga cioè dobbiamo pensare anche all'intesa vedete questo ovviamente della bundesliga è una bomba perché fa l'intesa verde con tutti quindi secondo me questa qua è una sfida abbastanza sempliciotta ragazzuoli 60 60 quindi mettiamo lui che anche qua fa un po' di intesa di tripla intesa terzino sinistro sempre della germania e noi ce l'abbiamo mettiamo o lui che va a 70 70 l'intesa se no abbiamo schmelzer che ci porta sempre a 70 quindi teniamo park jojo mettiamo lui terzino destro sempre ovviamente della germania andiamo a mettere no raffigna no mettiamo corb che io ho corb e non lo uso mai nella vita ok quindi abbiamo messo della bundesliga sono 4 dobbiamo metterne un altro quindi mettiamo un difensore della bundesliga ok lo mettiamo vediamo un attimino andiamo a 90 d'intesa andiamo a 90 solo si andiamo a 90 anche se vado a mettere diciamo aspetta un attimo perché si allora mettiamo sané ok mettiamo sané ragazzuoli però visto che qui potremmo mettere un altro gioco della bundesliga dobbiamo mettere un portiere proviamo a mettere un portiere ragazzi della germania vediamo un attimino andiamo a 70-700 ragazzi così ce la facciamo allora adesso io metto questo qui ok andiamo a 70-700 77 l'abbiamo fatto intesa l'abbiamo fatta giocatori giocatori bundesliga 726 perché in momenti ne ho messi 1, 2, 3 4, 5 e 6 no sono tutti tedeschi ecco perché mi sembra troppo facile allora ragazzi così diciamo che stiamo risolvendo la situazione perché abbiamo messo 6 giocatori della germania quindi bundesliga e svizzeri ne abbiamo 4 sono andate a mettere 4 francesi che mi stanno facendo intesa mi manca il portiere che dovrò mettere assolutamente francese però devo mantenere appunto vedete così ce la faccio perché devo mantenere 77 di valutazione squadra e un minimo di intesa di 95 anche perché tanto sacco vedete sacco io il giocatore francese non lo uso come difensore però qui se riusciamo a mettere vedete questo qua vedete non rado è meglio ancora questo argentone è meglio ancora no questo bronzo non va quindi questo argentone potrebbe andare bene questo argentone che tanto noi non utilizziamo ce lo possiamo tutti gli altri giocatori pure ragazzi non li uso anche embolo embolo pure non lo uso poi embolo cioè raga costa pochissimo quindi possiamo tranquillamente prenderci il nostro riccardo rodriguez che anche se è in prestito però ragazzi ce lo siamo preso che lo possiamo andare a utilizzare andiamo a andare via tutto quanto e ci teniamo il nostro bel rodriguez anche perché questa era una sfida questa era una sfida facilissima eh cioè veramente una cazzata assurda comunque ce lo siamo presi e ci potrebbe interessare per qualche sfida vai domandiamo nel club e va bene così diciamo che qua noi ragazzi abbiamo sempre da fare la sfida quella di Jovinko e abbiamo sempre da fare la sfida quella di Jonas quella di Jovinko ragazzi la vorrei fare perché Jovinko è veramente un bordello forte anzi guarda facciamo una cosa visto che c'è tanto da fare ma tanto 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 direi anche di iniziare io poi me la faccio anche un po' off camera quindi me la giocherò anche un po' per i cavoli miei e poi con voi appunto vi porterò l'episodio quello diciamo finale che appunto possiamo farci tranquillamente questa sfida allora qui dobbiamo prendere giocatori di Chicago Fire esattamente 11 valazione squadra queste qua diciamo che forse potrebbero essere abbastanza sempliciotte come sfide perché dobbiamo prendere Chicago Fire esattamente 11 squadra complessiva minimo 65 intesa 95 11 giocatori rosa quindi prendiamoci i giocatori del Chicago Fire ok troviamo MLS Chicago Fire quindi andiamo a vedere appunto i giocatori da prenderci come portiere e tutto altro quindi ci possiamo prendere anche tutti i argentoni che tanto noi ragazzi non ci interessa quindi questo vale 1.600 vabbè ce lo prendiamo non penso che dovrebbe essere un problema lo mettiamo qui comunque cerchiamo sempre di risparmiare perché se no è un bordello prima vediamo anche se l'abbiamo appunto nel club no non l'abbiamo quindi possiamo andare nel mercato trasfermenti prendiamo ma sa quanto costano ma sa così tanto costano ragazzi cioè tutti che costano 5.000 8.000 questo 2.100 manca un'ora 9.300 7.000 2.500 madonna mia quanto costa aspetta un attimo andiamo a fare anche gli altri prima ragazzi poi dopo torniamo con i difensori va ok mettiamo lui andiamo a prendere un altro ok ci siamo presi il bronzino e fino adesso può andar bene esterno o sinistro ragazzi questa cosa che c'è una sfida facilissima solamente che potrebbe costicchiare qualcosina perché non tutti noi abbiamo i Chicago Fire cioè non ce l'abbiamo come questo esterno o sinistro sul mercato trasfermenti non c'è vedi qual è il problema però mi dobbiamo mettere una S AS vediamo un po' AS però quanto costano 7.300 6.300 madonna mia questi pure li vediamo dopo ragazzi li vediamo dopo sì 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 andiamo come esterno destro e che costano un botto 9.000 9.000 questo è l'unico che c'è 9.300 questo è l'unico 8.800 e dai andiamo a prendere l'8.800 qual è il problema ragazzi c'è solo questo non ci sono altri giocatori è per quello che è facile ma costa un botto sta sfida qui è se qualcuno c'ha qualche spicciolo da spendere ragazzi perché quanto costano anche se tu mi dici aspetti che appunto qualcuno fa partire a 250 non c'è nessuno che fa partire il giocatore a 250 crediti quindi tutti che costano 3.000 2.000 2.000 è il prezzo migliore che ho trovato 2.000 no 1.800 eccolo qua 1.800 allora qua sono dovuto mettere lui ragazzi perché il cdc l'avevo già comprato quindi ho spiegato 1.800 ma hanno rimesso in vendita adesso quindi nessun problema ATT vediamo un attimino se ce l'ho nel club 0 nel club non ce l'ho ragazzi però questi dovrebbero costare un po' di meno oh vedi questo già 1.100 si può fare cioè 1.100 è tranquillo ragazzi la spesa questo 20.150 ma tanto arriva comunque a 1.100 questo 1.000 è già meglio perché si risparmia ancora 2.000 2.000 3.000 oh vedi 700 700 ragazzi se si cerca un pochettino si trova qualcosina di meglio quindi questo 700 crediti bam lo mettiamo qui ok qua abbiamo messo quest'altro quindi qua adesso ci siamo ragazzi dobbiamo trovare appunto questi difensori che i difensori costicchiano un pochettino quindi sempre il club non c'è niente vediamo sul mercato di trasferimenti tacite pippo quanto costano ma che siete matti ma siete matti mamma mia che prezzo c'hanno uno dice no devi cercare di risparmiare ma il gioco anche ti ti convolge a spendere più che altro e ci apriamo questi due pacchetti che abbiamo sbloccato intanto Rodriguez per 30 partite mi pare che ce l'abbiamo del Movember e va benissimo ci apriamo questi pacchetti che appunto ci prendiamo anche un po' di credit quindi già possiamo un po' andare a concludere diciamo la sfida quella del Chicago Fire troviamo un bel Gabi che comunque qualcosina se lo riusciamo a vendere può costicchiare vediamo un attimino quanto può costare Gabi diciamo 1.500 quindi ma neanche conviene ragazzi questi ci scartiamo così ci prendiamo i crediti ok infatti andiamo a 6.000 crediti dammi una finezza fammi una finezza niente in forma niente di speciale ci ha dato del tuo giovinco ma io giovinco lo sto prendendo quello lì speciale da carta speciale cioè vorrei prendere una carta speciale ok torniamo a noi ragazzoni ci siamo messi da parte un po' di crediti perché ho fatto un po' di vendite e ho abbiato un po' di FIFA Points qui mettiamo sempre MLS e ci andiamo a prendere appunto i giocatori del Chicago Fire raga purtroppo diciamo che se voi li avete molto meglio perché risprimate un bordello io invece visto che purtroppo non ho tutti i giocatori da andare a prendere sono costretto a prendermi questi qua che sono questo da 5.000 me lo devo andare a prendere assolutamente perché se non la sfida non la posso fare per me diciamo che voi dite ah Joker devi fare la sfida per far risparmiare ma tu non stai risparmiando non sto risparmiando perché io non ho appunto i giocatori però vi faccio vedere che squadra dovete avere per completare la sfida potete fare così quindi anche perché per me non è un problema spendere 50.000 credit per dirvi anche se queste sono sfida appunto per risparmiare io vi devo portare il contenuto e farvi vedere comunque che squadra vi serve e vi faccio vedere anche quanta spesa dovete affrontare se non avete appunto questi determinati giocatori per queste determinate sfide quindi potete prenderla anche in questo modo ragazzuoli qui 5.100 ragazzi lo vado a comunque acquistare anche se vado a risparmiare 100 credit non mi interessa andiamo a prendere l'ultimi due giocatori che appunto ci interessano qui dobbiamo stare attenti perché se no andiamo sempre stessi allora il pelatone e quell'altro l'abbiamo preso io non mi ricordo tantissimi numeri quindi Jerry Girl l'abbiamo preso e Campbell ok dobbiamo vendere uno di questo e di questo vedete 2.200 però potrei fare la compravendita ok ho preso questo ragazzi perché l'altro ho aspettato 7 minuti e mi hanno incuccato praticamente anche perché il giocatore è stato venduto a 5.400 credit quindi era praticamente mezzo inutile questo ho acquistato per 5.800 per 400 credit va benissimo ci prendiamo l'ultimo ragazzoli che qua ci devo prendere appunto l'esterno sinistro non c'è quindi AS ci sta perché noi nel club non lo abbiamo nel mio club non l'abbiamo quindi dobbiamo prendercelo qui e questo già ragazzi questo costicchia un pochetto a meno che a meno che però aspetta a meno che fa ma fa ma essere un attimo furbo secondo me con l'attaccante spendendo la bellezza di 2.100 crediti c'è qualcosina di meno pure secondo me acquistando lui ragazzi ce la facciamo tranquillamente guardiamo un po' bam fatta la sfida ragazzi senza andare a spendere 6.000 crediti mettiamo lui e ci facciamo questa sfida e possiamo andare quindi ci danno anche un bel pacchettino che appunto sfida completata ricevuto i seguenti premi un pacchetto oro mazza gentilissimo sei un po' sprecato qui la stessa cosa ragazzi io queste qua vi ripeto queste qui me le faccio un po' per i cavoli miei quindi poi vi porterò appunto quando mi mancherà poco per prendere appunto giovinco signori questo qui è terminato io spero che vi vi è stato anche un po' utile per farvi capire anche quanto dovete spendere se non avete appunto giocatori di chicago fire quindi mi raccomando se vi è stato utile un bel like scrivete questi commenti appunto se continuare e prenderci giovinco ma lo farò sicuramente ragazzi perché vi farò vedere la parte finale dove appunto poi io riuscirò a prendere giovinco mi raccomando un bel passo in su commentate condividete questo video passiamo la pagina facebook instagram shop online tutte le descrizioni ci vediamo con un prossimo apportamento oppure fatemi capire se tante volte volete che lo faccio con voi anche colorato rapiz e molti altri li faccio tutti quanti insieme li facciamo insieme senza che io mi vada a fare da solo quindi fatelo sapere sotto i commenti perché è importante bella ragazzuoli